Sotto con i progetti per il completamento della Due Mari. Adesso deve essere avviata la terza fase, vale a dire quella della progettazione esecutiva per appaltare i lavori. A chiederlo è Confindustria Toscana Sud, dopo che il commissario straordinario per la E78 Massimo Simonini ha chiesto il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del Tretto Umbro, esaurendo di fatto la seconda fase progettuale per il completamento della Grande Opera. Per i tre lotti da completare, da Siena a Palazzo del Pero è prevista nei prossimi mesi la consegna del progetto esecutivo al Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture per il finanziamento e l'appalto delle opere. Inoltre sono in fase avanzata di esecuzione i lavori tra Siena e Grosseto ed è stato avviato il recupero e la sistemazione della Galleria della Guinza al confine tra Umbria e Marche. Il valore economico, sociale ed ambientale generato dal completamento della Due Mari, con venta Confindustria, è enorme da tutti i punti di vista, tempi di percorrenza, livello di sicurezza stradale, valorizzazione e benessere delle aree interne, riduzione del traffico, specie quello di attraversamento dei centri abitati, riduzione delle emissioni ed infine positive ricadute economiche ed occupazionali collegate all'esecuzione delle opere.